Data la persistente situazione di emergenza, la pizzeria da zero ha deciso di realizzare delle mascherine in stoffa che saranno distribuite gratuitamente a partire dal 30 aprile su Milano e Torino, attraverso il servizio di Deliver attivato con il Glovo il 4 aprile scorso. Insieme alle pizze arriverà a casa una mascherina, la distribuzione avverrà anche nel Cilento, con il supporto della protezione civile, che provvederà ad organizzare la consegna nel comune di Varlo della Lucania e nei paesi limitrofi di Canalonga, Novivelia, Moia e Ceraso. Si tratta per ora di un numero limitato di mascherine che verranno distribuite dalle amministrazioni in base alla valutazione delle loro esigenze. Seguendo quella che è la sua naturale attitudine, la pizzeria da zero ha definito un accordo con aziende del territorio per dar vita a questa iniziativa. Tutto è partito con MedArt, ditta di serigrafia e stampa di Moio della Civitella, che ha aperto il contatto con un laboratorio artigianale di Sartoria. Le signore si sono dette entusiaste e si sono messe all'opera per produrre le mascherine in cotone lavabile che MedArt ha provveduto a stampare con i personaggi di da zero. La grafica racconta il mondo della filiera corta di da zero, fatta di uomini e donne laboriose che, anche nell'emergenza, stanno portando avanti nelle loro aziende un attento lavoro. Queste immagini sono state scelte per celebrare anche l'oro e il prezioso rapporto costruito con da zero negli anni. La solidarietà si sposa con un modello di economia sostenibile, nato grazie ai rapporti virtuosi che negli anni il brand Cilentano ha costruito con gli artigianati del territorio. Le mascherine sono confezionate singolarmente in bustine sigillate, accompagnate dalle istruzioni per la corretta igienizzazione del tessuto che le rende utilizzabili più a lungo. Tornare a gustare le pizze di da zero significa continuare a far crescere una filiera di prodotto agroalimentare vastissima fatta di molti presidi slow food, ma soprattutto di cibi alla base della dieta mediterranea, la cui formulazione scientifica nacque proprio nelle terre cilentane, in particolare nel comune di Pioppi, grazie al medico americano Ansel Kiss. Anche in questo periodo di emergenza, dunque, le pizzerie da zero confermano la loro più grande convinzione che solo l'unione all'interno di una filiera artigianale autentica può garantire una crescita comune. L'importanza della bontà e della genuinità va di pari passo con la sicurezza, per questo le pizzerie da zero hanno scelto di regalare mascherine ai loro clienti, create in Cilento, pur nelle difficoltà del momento, perché la cura e l'attenzione verso i propri clienti è una delle cifre che distingue da sempre l'operato del brand cilentano.